Intro Salve a tutti ragazzi, qui TTT e benvenuti in questo nuovo episodio di Crash Bandicoot Hensei Trilogy Andiamo avanti con Road to Ruin Ok ragazzi, eccoci qua Primo livello del video Vediamo di... Stavo per dire, vediamo di non morire subito Boom, morto Devo smetterlo di dire, vediamo di non morire Ok Stavolta non rischiamo Fottuto ratto o quel cacchio che sei Ok Salve Ah, mi aspettavi eh Ok, prendiamo tutte le casse Però sinceramente ho visto una cosa lì indietro Che devo capire esattamente Ok, come si prende? Ah, forse devo andare avanti e ritornare indietro Non lo so eh Ok, qua non cade niente Però c'è quel robo che mi guarda E non mi piace Ciao Ok Eh, ok Ti devo... Sì, va bene Ok, ho capito Non devo... Non devo fare cacchiate su quello Non li devo saltare in testa perché se no muoio Ho già capito Li devo schivare completamente? Ah vabbè Ti schivo Ciao Ok Come devo fare? Ok, allora Pestarti non va bene Tirargli la giravolta Non va bene Oh, io li testo Ok Devo schivarli Devo schivarli È divertente allora Intanto Intanto siamo già con zero vite Che bello ragazzi Non potete capire Ok, quindi devo... Ah, ma sparate fuoco voi eh Ok, va bene Capito Ah, serve la gemma qua Va bene Allora bisogna farlo Più avanti Ok, andiamo Ah, ma si può saltare Allora che problema è Ciao Oh Abbiamo anche il tesorino lì Mi sa che si sono attivate Anche quelle indietro Vabbè Ok, è posto Ma non ritorno indietro Con zero vite Non ritorno indietro Non voglio morire Praticamente Dai Ammettiamo com'è la storia Perché qua mi sa Di livello bonus Lì c'è la gemma Ok Non ho ben capito Come si va però Vabbè Riprendiamo tutte le mille ragazzi Dai Dai crash Ok Ok Andiamo avanti allora ragazzi Non so come andarci lì per ora Burrbaga Ok Andiamo Vabbè Questo livello comunque Non è molto difficile per ora Perché parlo? Perché parlo sempre? Perché? Perché? Game over Lo so Sono un mongolo Ritorniamo lì Che cos'è sta piattaforma? Ah Ok Perfetto Non l'avevo vista prima L'ho saltata direttamente Ok Saltiamo su Grazie Grazie crash Quando vuoi crash Sono a tua disposizione Intanto ho visto qualcosa Che mi viene Addosso Ok Va bene Devo evitarlo Ok Andiamo Salve Uno Yeti Va bene Ciao ciao Oddio Piattaforme Che bello Che gusto Che gusto Le piattaforme Oh Ok Va bene Andiamo oltre Mi sa che per arrivare Dove c'era la gemma bianca Ragazzi Interessante Ok Vediamo Ah mi arriva Grazie Ok È alquanto difficile Ci voglio riprovare Però ragazzi Ci voglio riprovare Voglio vedere Se Se possiamo fare A prendere La possibile Gemma Non si prendono Le gemme A perdere Però le maschere Vabbè Riproviamo Voglio vedere Se la posso prendere Ci starebbe Da prenderla In questo In questo In questo episodio Ragazzi Ci starebbe Così non devo Rigiocare il livello Ok Andiamo Meglio star qua Eh Ok Via Eh Una vita Vai Ok Andiamo ragazzi Ci riproviamo Devo Devo saltare Devo fare Madonna Stavo per saltare Devo fare con calma Devo fare con calma Perché qua Cioè Si deve schivare In salto Non con la piattaforma Ok Va bene No Non esiste Ok Ok Si scivola No lo scivolino Non mi piace Dai che prendiamo la gemma Ok Va bene Ok Sparate fuoco Interessante Gemma Eccola qua Non mi riportare però La indietro Per favore Grazie Grazie mille Ok Vediamo di non morire Stavolta Che è meglio Maschera Perfetto Ok Andiamo Con calma Non moriamo Inutilmente Oh Bella lì Ci abbiamo fatta Checkpoint Vabbè Bonus stage Andiamo ragazzi Andiamo a prendere Anche il bonus stage Stiamo facendo Un sacco di roba In questo livello Che è assurdo Ok Qua mi porti Va bene Mi piace Però vado Va bene Ma mi prendete Per il culo Con tutta La sincerità Mi prendete Per il culo Vai Ok Vabbè È stato un attimo Incasinato All'inizio Diciamo Ok Andiamo 13 su 13 46 mele Forse riesco a salire Di livello No di poco Comunque Siamo Siamo lì Siamo sugli 80 Quasi 90 Va bene Andiamo avanti Però mi potevi portare Un pochino Più avanti No eh Proprio da qua Vabbè Ok Ah Fate anche a mo' di Eh Volevi La scimmia Che salta No eh Ehi Ciao Cosa ho fatto saltare in aria Boh Ok Di poco Abbiamo preso tutte le casse No Ce ne mancano un casino Che palle Vabbè Abbiamo preso la gemma Però Abbiamo preso la gemma Ragazzi Vai così ragazzi Andiamo avanti Andiamo ragazzi Nuovo livello Unbearable Non mi dite che è un altro livello Con l'orso Per favore Per favore Veramente Non deve essere un altro livello Con l'orso Eccoci qua ragazzi Scopriamo subito No non c'è l'orso C'è il masso Masso incoming Sì Masso incoming Ah No Orso gigante Incoming Va bene Va bene Nitro Crash Per favore Non mi fare Ah la dovevo spaccare Ah Aiuto Ma vaffanculo Un gecko Oppure O come cacchio si chiama Eh Apreti Addio Ah Ci gado Voglio sapere cosa succede Se ci vado vicino Ah niente Ah Ne arriva un altro Vero Buongiorno Pure qui Ah Mi mangia 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 Per favore Muoviti Muoviti Crash Ok Con calma Ora Uh Le stavo per prendere Oh Oh Via Non usate Ok Un altro Di cui Seriamente Ok Andiamo Perché mi piace morire In questo modo Perfetto L'abbiamo preso Oh Abbiamo un po' più di vantaggio Ora dai Anche se faccio Qualche errorino Ce la possiamo ancora fare No Vai crash Aiuto 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 Per favore Ok Stavolta Li schivo Ok Spacchi il ponte Ah bravo Ah Ci godo Andiamo avanti Uh Ok Perfetto Il cristallo Uh bonus Andiamo a vedere il bonus Ok 12 casse 12 casse Comici Ritorno Lì sopra Ok Non sto capendo Come ci dovrei andare? Come ci dovrei andare? Ci voglio riprovare Ci voglio riprovare Ma non ho capito Proprio come andarci Non credo da qua Infatti Il salto Non sarebbe Troppo lungo Da qualche parte Si può ritornare Lì ma Non so dove Proviamo in questo modo Grazie Quindi sono morto Eh Non ho capito Non ho Non ho capito Vabbè Saltiamo Ora C'ho il metodo Questo era il metodo Ne son sicuro Ne son sicuro Ok C'è C'era il metodo Gecko Gecko Saltata Saltata La distrugge La distrugge lui Tanto Ok 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 Questo ha funzionato Inizio ad odiare Sta roba Inizio ad odiarla Andiamo Si portami Portami sempre più lì Va Guarda Sono felicissimo Felicissimo Andiamo Volevate Fottermi lo so Ok Allora Qua devo stare attento Ok Inizio ad odiare Questa roba Non ho capito Come fare Sinceramente Non ho capito Come fare Ok Dovrei utilizzare Le freccettine Per questi livelli Devo dirlo Attento Devo capire Una cosa Via 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 Mi stavo per prendere Ok Ok Fermando Si ha funzionato Finito No No per favore No 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 Io ti odio Oltre a farmi seguire Dall'orso C'è anche L'orsacchiotto Perché crash Perché 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 devo bestemmiare In sti livelli Eeeh Volevi Seguiamo le mele Eeeh Eeeh No L'avevo detto Che mi incazzavo Se c'era l'orsacchiotto Li odio Sti livelli Ok Con calma Con calma Wow Ok No via Ok Eeeh Bello ragazzi Ok ci siamo ragazzi Vediamo cosa ha da dirci Cortex Ok Interessante No Gli ultimi cristalli Saranno i più difficili È normale E i miei I nostri nemici Cercheranno di fermarti Ti contatterò Quando avrai completato La prossima stanza Del teletrasporto Ok va bene Chi è il boss Tiny Tiger Ok ancora lui Se non mi sbaglio È quello del primo Eccoci qua ragazzi Tiny Tiger Ah no Non è quello del Oh è lui Non mi ricordo C'è nel terzo forse Ok Come funziona lo stage Vediamo un po' Salta Sulle piattaforme Ok Quindi a te ti piace saltare Ah Ash Ok Cadono Va bene Ho capito Ma devo capire Per quanto tempo Va bene Non funziona Come credevo Cioè Per quanto tempo Ci rimango io Sulla piattaforma Dopo un po' Cadono Praticamente Oh Ok Volevi Ah ah Ci godo Si resettano Però le piattaforme Credo di sì Visto che non sta Infatti Ok Immagino che inizierà A fare salti Più Assurdi Ok Va bene Devo stare più attento Forse dovevo saltare Su quella rossa Ok Ma non è molto Difficile Sinceramente Come livello Bisogna solo aspettare I suoi salti Eh vabbè ma Ti odio Ti odio Tiny Tiger Ci riproviamo Ci riproviamo Ragazzi Voglio finire il livello Ok ragazzi Ci siamo eh L'abbiamo battuto Almeno una volta Ci proviamo eh No Con calma Ora cosa fai? Mi direi che inizia A rompere ancora di più Le balle Per favore Ah ok Con una sola piattaforma Proprio fatta apposta Per rompere un po' Le balle Ok 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 con calma Eh vabbè Ok Devo capire Se devo stare Sulle piattaforme Rosse Proprio per farlo Atterrare male Forse è quello In metodo Eh Ah ho capito No Ok Ce la stavamo facendo Eh Ora ho capito Il trucco Diciamo Devo stare Sulle piattaforme Rosse Devo stare Sulle piattaforme Rosse Ok Ah 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 Battuto Battuto Però bisogna Fare attenzione Perché anche Quando muore Comunque Cadono le piattaforme Quindi è rischioso In generale La cosa Ah inizi subito Da lì Ok Oddio 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 Ha battuto Ok Con calma Una vita Lo possiamo battere Lo possiamo Decisamente Battere Sì sì Non fare L'incazzato Che non ce n'è Bisogno Oddio Ma è una sola È fatta apposta Oddio Ah L'ho battuto Ah ah L'ho battuto Ce l'abbiamo fatta Tiny Tiger Addio Addio Cattivone Tiny Triturato Trofeo Guadagnato Vai così Ragazzi Andiamo Sempre più avanti Cerchiamo di finire Crash Bandicoot 2 Alla veloce Ragazzi Va bene ragazzi Direi che per questo episodio Di Crash Bandicoot Ensane Trilogy È tutto come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Vi ricordo anche di seguirmi Sulla pagina Facebook E sul profilo Instagram Tutti i link Sono in descrizione Detto questo Noi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti